La Chiesa è nata cattolica e in uscita. Essere cristiani dunque vuol dire prendersi a cuore la salvezza di tutta l'umanità, non sentirsi indifferenti o estranei di fronte alla sorte dei nostri fratelli. Ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per l'udienza generale, Papa Francesco ha chiarito che un battezzato deve avere il senso della pianizza e dell'armonia della vita cristiana, respingendo sempre le posizioni parziali e unilaterali. Nel corso della catechesi, ancora dedicata al tema della Chiesa, il Pontefice ha rimarcato poi che la nostra fede è ancorata all'annuncio e alla testimonianza degli stessi apostoli di Gesù. Di qui l'invito a sentirsi sempre inviati, in comunione con i successori degli apostoli, ad annunciare con il cuore pieno di gioia Cristo e il suo amore a tutta l'umanità.